Buongiorno a tutti, anzi dovrei dire buonanotte visto che siamo intorno a mezzanotte e qualche minuto quindi siamo già giovedì. Comunque si sono disputati finalmente le partite degli andata degli ottavi di finale di Champions, lo spezzatino come gli piace chiamarlo a mio amico pronosticatore folle che lui odia perché gli piacerebbe partite condensate massimo in due giorni o nello stesso giorno, una al martedì, una al mercoledì, poi cioè scusate due al martedì, due al mercoledì, poi la settimana dopo altri due al martedì, due al mercoledì, ma d'altronde ormai è così per stare poi a parificarle con quelle dell'Europa League che devono fare i sedicesimi e gli ottavi e allora fanno lo spezzatino di Champions in modo che così poi dopo si va pari pari con i quarti per tutte e due le competizioni. Comunque gli ottavi di Champions hanno dato degli esiti abbastanza sorprendenti, partendo subito dalla prima partita che si è giocata martedì scorso, Atletico Madrid, Liverpool 1-0 e Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, quindi tutte e due le sorprese, la vittoria delle squadre sulla carta sfavorite, cioè l'Atletico Madrid abbattuto in casa al Liverpool 1-0, una vittoria che lascia apertissimo il passaggio del turno per la squadra inglese e vale lo stesso per l'Atletico Madrid che andrà là coltello tra i denti a fare le barricate, a cercare di difendere questo 1-0 e magari a punire in contropiede e castigare il Liverpool. Stesso discorso, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, anche se credo che il Borussia Dortmund andrà a Parigi a giocarselo, a cercare di magari perdere di misura segnando magari un gol in più. Nel senso, Paris Saint-Germain ha perso 2-1, loro perdono 3-2 e passano loro, perché io credo che il Borussia Dortmund risponderà colpo su colpo per quello che riuscirà a fare, perché il rischio che il Paris Saint-Germain li metta lì e li prenda a pallata e finisce 5-1, c'è tutto, però è tutta da vedere. Mercoledì poi ci sono state le due sorprese, Atalanta-Valencia che asfalta il Valencia, molti mi hanno detto che il Valencia è una squadrettina di gomma, comunque il Valencia ha vinto il girone con il Manchester United e l'Aias che è rimasto eliminato, quindi così scarso, così scarso non è, a meno che Manchester United e appunto Aias siano ridicoli, ma non credo, visto che l'Aias l'anno scorso è stato eliminato proprio sul più bello all'ultimo secondo, sennò sarebbe andato lui in finale di Champions, dal Tottenham, è vero che ha perso del United, è vero che ha perso dei giocatori, però è sempre l'Aias, e quindi bella impresa dell'Atalanta che però se crede di andare a Valencia e dire che abbiamo già passato il turno, è meglio che resta Bergamo, perché il Valencia è capacissimo di vincere 3 o 4 a 0. Era successa un'altra squadra italiana di cui non ricordo il nome, col Deportivo La Corugna, che ha vinto 4 a 1 in casa e al ritorno ha perso 4 a 0. Veniamo all'altra partita, Tottenham-Lipsia, il Lipsia ha vinto 1 a 0, ma attenzione a questo Tottenham targato Murigno, perché se al ritorno dovesse recuperare il Kane, Son no, perché ormai è morto e avrà un Mora in spolvero modello Amsterdam, attenzione perché potrebbe anche andare a Lipsia a ribaltarla, non diamo per scontato che il Lipsia abbia già passato il turno. Veniamo alle partite di questa settimana, Chelsea-Bayern-Monaco 0-3, direi che il discorso è già chiuso. Ah no, forse era col Chelsea che era il Valencia, ecco, Chelsea e Ajax, non Manchester United, Chelsea e Ajax, giusto. Sempre squadra inglese, e comunque il Chelsea ha dimostrato, ahimè, che in questa Champions forse forse non era proprio al top del top per intenderci, cioè il Bayern è veramente uno squadrone, perché l'altro giorno, primo tempo tranquillo, poi li hanno letteralmente asfaltati. 3 a 0 direi che questa è l'unica partita che sicuramente è chiusa, perché anche Atalanta-Valencia quel 4 a 1 è sempre pericoloso, se il Valencia nei primi dieci minuti ti segna un gol poi sono dolori in Spagna. Napoli-Barcellona 1 a 1, il Napoli ha reso difficile sicuramente la gara al Barcellona, se l'è giocata alla grandissima, si è mangiato qualche gollettino così come il Barcellona, però comunque un gran bel Napoli, è un'impresa andare a Barcellona a fare 2 a 2, o comunque magari andare 1 a 1, andare supplementare e poi spuntarla ai calci di rigore, sarà durissima. Però se copiano magari quello che fece l'Inter per 60 minuti, lo fanno per 90, magari l'impresa salta fuori, sarà dura, ripeto, sarà durissima. Però l'Inter col Barcellona perse 2 a 1 a Barcellona ma per 60 minuti se la giocò quasi meglio che non con il Borussia Dono in cui vinceva addirittura 2 a 0 dopo il primo tempo, ma in quel primo tempo poteva essere anche superiore a 1 a 0 quel vantaggio. Quindi il Napoli se va là, se la gioca eccetera, poi se il Barcellona è in formato super messi e ci non c'è gara, però nulla è perduto, intanto hanno fatto vedere che il Napoli c'è come direbbe Guido Meda. Veniamo alle dolenti note, Lione e Juve 1 a 0. Allora c'è da dire che qualcuno sleggevo qualcuno che diceva i rigori, i rigori, i rigori. Allora in Italia o almeno uno dei due gliel'avrebbero fischiato. In Europa ci vuole qualcosina di più di una mano sulla spalla o di un tocchettino così. In Italia li fischiano di più, basta che tu appoggi la manina sul petto, sulla schiena di un giocatore, la appoggi, non è che spingi, la appoggi e l'arbitro ti fischia il rigore perché le mani addosso non si mettono. Lì praticamente si è appoggiato, non è che gli ha dato un rusone, gli ha messo la manina così appena aperto, ti tocco, ti tocco, ti tocco e loro si sono lasciati cadere. Poi uno può dirmi quello è calcio di rigore, ma tanto l'arbitro non l'ha dato. Come dico sempre è inutile stare qua a dire c'era rigore, non c'era rigore, tanto non l'ha dato. Puoi anche dirmi ce n'erano dieci per la Juve ma non li ha dati, quindi è inutile stare. La Juve ha perso una zero, ha giocato 45 minuti del secondo tempo praticamente nella metà campo dell'Ione senza riuscire a fare gol, senza creare nulla di, sì dei tiri fuori di poco, 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 ma il portiere non è che gli ho visto fare dei miracoli o che cosa. Quindi vedremo, vedremo il 17 come andrà, il problema è che il rischio che si giochi a porte chiuse è alto e capite che recuperare un 1-0 a porte chiuse contro una squadra come il Lione che ha dimostrato di essere bella rognosa non sarà per nulla semplice. Poi la Juve li può asfaltare tranquillamente 3-0 come ha asfaltato l'anno scorso l'atletico, però giocare a porte chiuse diventa un problema in più. E infine veniamo alla super sfida, Real Madrid-City, primo tempo abbastanza noioso, io avevo la diretta gol quindi passavo da Lione a Madrid, da Madrid a Lione, da Lione a Madrid a Lione, eccetera eccetera, così come tutte le altre partite. E primo tempo veramente un paio di occasioncine ma niente di eccezionale. Nella ripresa il City stava prendendo piede nei primi 20 minuti, quarto d'ora quello che è, sembrava che dovesse segnare il City, sembrava che dovesse segnare il City, ha segnato il Real Madrid. Bella azione, il simpatico Vinicius in mezzo a due, tocchettino morbido per Isco, bello, libero, fresco come una rosa in area e tocchettino in scivolata nell'angolino. Poi il City però ha iniziato a riprendere quello che stava facendo prima, quindi campo, 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 ha pareggiato e poi dopo è arrivato sto calcio di rigore perché veramente il difensore che cosa ti è venuto in mente è di entrare in quella maniera in scivolata su un giocatore che entra dalla fascia in area di rigore. Area di rigore, giocatore in fascia che sta andando verso il fondo, lascialo andare, cos'è entra in scivolata? Gli stai vicino? Lui crossa, può solo crossare? No, entra in scivolata, quello con la punta del piede tocca la palla e lui lo prende in pieno. Calcio di rigore, dopo cinque rigori sbagliati finalmente De Bruyne spiazza nettamente il portiere. Tra l'altro Courtois oggi, anzi ieri, perché ormai quando vedrà, anzi siamo già a giovedì, quindi ha fatto molte più parate del suo, del giocatore del City, però alla fine il City va a espugnare Madrid, quelli che dicevano il non mi fido del City, il City in Champions, il Real Madrid ha più esperienza eccetera, io continuo a vedere il City favorito insieme al Liverpool e come outsider Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Poi dopo ditemi voi quello che volete, però per me queste sono le quattro squadre che se non si affrontano prima si giocheranno le semifinali, poi se si affrontano magari nei quarti abbiamo già chiuso il discorso. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere voi cosa ne pensate della situazione Champions, se la pensate come me sulle gare di ritorno probabili e come sono messe e ci vediamo alla prossima. Ciao!